la gente, sono arrivato in cima a uno dei più di più altri della città di Marsiglia che è Notre Dame de la Gare che era dietro, la vedete? Una chiesa che domina la città, una città che mi piace sempre meno dato che ieri hanno tentato di rubarmi zaino, soldi eccetera oltre quella croce c'è il porto di Marsiglia dove mi sa che parte tanto di quella roba rubata che non se ne immaginano neanche loro andiamo pur la sua pregare che è meglio